Musica I blower arrivati dall'Inghilterra, si catapultano sul palco, attaccano gli amplificatori, iniziano a suonare e, sfortunatamente per loro, L'amplificatore del basso non funziona perché non è stato messo il microfono davanti, sono dei disguidi, delle defiance che possono succedere anche nelle migliori famiglie. Racconteremo poi la storia dei blur, che poi è abbastanza breve e concisa, franno molto, intanto ci ascoltiamo Jubilee. This is our first song, it's called Jubilee. Racconteremo poi 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti